Ha fatto una scelta, ha fatto una scelta per difendere la legalità, l'istituzione della libertà dell'istituzione. L'istituzione debita a Serbo, a Fece, a Aure, un miglior esempio, che è lega fino a giunto a Palermo di un buon viaggio per farlo ricostarlo. L'istituzione debita dopo l'attentato, lui, è diventato il buon viaggio, la capacità delle macchie di occupare sempre la tua distanza si passa attraverso i comportamenti addini che si resta anche nel palermo di un buon viaggio. No, non è affatto dimenticato, non so se ne parleremo, noi oggi eravamo qui per questa celebrazione, però è sempre l'occasione buona, è un ottimo rapporto con tutti gli amministratori. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.